Esplosione nella notte ad Albiolo in via Patriarca. L'allarme è scattato intorno alle 3 da una prima ricostruzione. Sembra che la causa scatenante sia stata una perdita di gas da un tubo che collegava una bombola a un fornelletto da campeggio. Sarebbe poi bastata l'accensione di una sigaretta per provocare l'esplosione. In casa una 47enne che è stata trasportata ad urgenza con l'elissoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in seguito alle gravi ustioni riportate, classificate di secondo grado e di secondo grado profondo. La donna è ricoverata in terapia intensiva, in proniosi riservata, a ustioni sul 25% del corpo e precisamente a volto, collo, torace, addome e arti superiori. Ferito in modo meno serio anche il convivente trasportato all'ospedale di Varese. Oltre al 118 immediatamente ad Albiolo sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco. In totale in via Patriarca hanno lavorato 12 uomini. Sul posto anche i carabinieri di Olgiatecomasco. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri immobili né altre persone. Già svolto il sopralluogo nell'edificio da parte dei tecnici comunali e degli agenti della polizia locale. Dichiarato inagibile l'appartamento dove si è verificata l'esplosione.